Un momento! Solo un secondo! Dove? Dove? Dove diavo? Sento! Ciao! Ciao! Come stai? Bene, e tu? Bene, sei bellissima! Bellissima! Grazie! Cos'è quello? È sull'orecchio! L'orecchio? Ah no, l'orecchio sinistro! È gel per capelli! Sì! Bene! Non farlo! Non è necessario toccarlo! Vabbè, tutto... Io l'ho finito! Come andiamo qui? Alla grande! Ma troppo di vino? Ma certo! Perciò quando dici assassino vuoi dire... Che è un omicida! Sì! Un vero e proprio omicida? Ha ucciso delle persone! Lo so, è pazzesco! È finito in prigione, è così? Sì, a Boston! È ovvio che il sistema giudiziario... Ed è appena uscito? Sì, insomma... Gira ancora a piede libero! Pensa... L'ho anche baciato! Certo! Ma non hai fatto... Non hai fatto altro! Cosa? Insomma, non hai... No! No, no, no! Ok, ok, ok! Io non lo so! Ma come si fa a pensare di fare quella cosa? Insomma, sono uscita con lui solo un po' di volte! No, voglio dire, ero sicuro di no! Però sai, mi basta soltanto il pensiero! Eh... Non dovrei scaricarti addosso tutta questa storia! Mi dispiace! Non ci vediamo da così tanto tempo! È come... No, no, no! Mi dispiace! È solo che dispiace anche a me! Sono stanca di parlare di maniaci! Parliamo di te, invece! Ehi, stai bene? Vuoi un po' d'acqua? No, sto bene! Ah! No! Ma è... No! Eh... No. Già... Quattro! Non. Mo... ore ! Non.